Ci risiamo. Nuovamente i lavoratori del Consorzio di Bonifica del Sarno sono senza stipendi. Le maestranze, molte delle quali risiedono nei comuni della Valle dell'Irno, da quattro mesi non ricevono lo stipendio. Ai nostri microfoni il dottor Restituto Pierri, che per anni è stato membro del Consiglio di questo organismo, un consiglio nel frattempo commissariato. Allora dottore, di nuovo drammatica la situazione dei lavoratori del Consorzio. Sì, mi risulta che effettivamente debbano percepire le ultime quattro mensilità e anche arretrati sui monumenti precedenti. Mi perdoni, qualcuno annotava forse malignamente che forse qualche stipendio veniva pagato in questo periodo in concomitanza con le elezioni regionali. Prego dottore. Se questo è vero, corrisponde alle modalità di comportamento di parecchie amministrazioni, quindi non mi scandalizza affatto. Ma non è importante questo fatto. Il fatto invece che sottolineerei è il continuum dell'amministrazione approssimativa del Consorzio di Bonifica del Sarno. Certamente noi avevamo avuto modo negli anni scorsi di stigmatizzare la cattiva amministrazione del commissariamento precedente, quello tra il 2006 e il 2011. Tant'è vero che ci impegniamo a fondo per dare un'amministrazione democratica al Consorzio e purtroppo non ci fu la svolta desiderata. Dopodiché c'è stata probabilmente anche per l'intervento di autorità superiori, in particolare della Corte dei Conti, in seguito all'attività della quale ci sono state le dimissioni degli organi amministrativi democraticamente elette, la nomine del nuovo commissario. Se nonché l'amministrazione distratta, non coerente, non adeguata alla necessità dell'ente e del territorio, sta purtroppo continuando. E quindi gli arretrati mesi non pagati alle maestranze e mi pare che siano più o meno sempre gli stessi, 4, 5, 6, 7 mesi. Consorzio di bonifica come la Gori, è notizia di questi giorni che anche questo organismo farà pagare le bollette retrodatate ai consorziati. È così, dottore? C'è stata un'iniziativa che si è consumata nei mesi scorsi riguardo alle annualità dal 2010 al 2014 nel tentativo di racimolare finanze. Ma la cosa che volevo sottolineare è che nel 2013 c'è stato un aumento del 30% del contributo di bonifica che è stato... Con servizi, mi perdoni, che lasciano molto a desiderare? Sicuramente, sicuramente lasciano molto a desiderare. E diciamo che non si vede l'azione del consorzio sul nostro territorio, francamente. Io ricordo, e lo ricorderà sicuramente anche lei, una tragedia che anni fa coinvolse, purtroppo determinò la morte di un familiare della famiglia Zollo. Vabbè, ma mettere in relazioni queste cose è sempre, come dire, delicato, quindi non vorrei commentare in questo senso. Ecco, un'ultima domanda e chiudiamo. Quali le prospettive, qual è il futuro di questo organismo? Ma io spero che ci sia una svolta e se non ci sarà per l'azione commissariale più attente e adeguata alle cose moderne e contemporanee vuol dire che si dovrà tentare di nuovo di rifare le elezioni, di ridare un'amministrazione eletta democraticamente. Ricordo che da questo punto di vista c'è stato con l'attuale commissariamento un notevole passo indietro. Pensate un poco che c'era una situazione di scarsa trasparenza con l'amministrazione precedente, tant'è che venivano pubblicate sul sito del consorzio solamente i titoli delle delibere, ma non i corpi delle delibere. Cosa dovuta per legge. Ebbene, dovete sapere che da quando si è insediato il nuovo commissario non sono più pubblicati sull'albo pretorio online dell'ente neanche i titoli delle delibere. Quindi non è possibile seguire online l'attività del consorzio. C'è un'assenza di trasparenza assolutamente deprecabile che si deve ripristinare al più presto. So che l'Ambi Nazionale, l'Associazione Nazionale del Bonifico Italiano, ha posto un quesito specifico al commissario per la trasparenza Cantone. E' stata risposta a questo quesito con un decreto scritto, non ricordo bene se decreto legge o decreto ministeriale, in cui è stata ribadita la funzione pubblica e la modalità di comportamento trasparente come fatti ineludibile anche dei consorzi di bonifica. Ma questa cosa non è stata ancora percepita dal nostro consorzio di bonifica.